Macabra sorpresa questa mattina per i primi bagnanti della spiaggia di Chiatona, sul litorale ionico della provincia di Taranto. Il corpo esanime di un trentenne riverso sulla spiaggia, morto. Potrebbe essere stato un malore o altro, nessuno per ora è in grado di dare una risposta. Sul posto, allertati dai bagnanti, i carabinieri e il pubblico ministero di turno che ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo originario di Palagiano per risalire con certezza le cause della morte.